Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Ok, c'è bella roba, dai, c'è bella roba, c'è bella roba, bro. C'è bella roba, porco Dio. Bello, splendente. 165, ci metto la firma. Oh! Oh! Zatto, davvero! Se si incastra lì, se si incastra lì, due spin. Almeno il 100. Che buona. Che bella. Va bene, va bene, va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Stava per scoppiare, stava per scoppiare. 100 per, ottimo, solido, solido. Stava per scoppiare il butto. Solido, stava per scoppiare, stava tirando fuori il cappone. Porco Dio. Voleva tirare le mamme. Un attimo, eh! Tutto illudito! Soppy, mi fa riuscire così difficile, il mio cuore... Il cuore... il cuore è ora. O c'è qualcosa in giù, non lo so. Grazie, edo, per il Prime. Benvenuto, cucciolo. Siamo tanto, è tutto buggato il Monopoly. Guarda cosa succede appena mi raggiungerò, bro. Un tre merdoso. Ok, colore. Che merda. Che merda. Che merda. Va bene, calma, 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 calma. E tutto ciò è successo, perché non ho tenuto il montante massa pari, raga. Ma che bastardo. Ma che bastardo. Tecca tutti, non posso avere una chat così ritardata, Dio cane. Cioè, alcuni sono veramente ritardati, Dio porco. Alcuni sono proprio ritardati... Cioè, non lo dico proprio con cattività, ma proprio... Cioè, cazzo, non ce la si può fare, raga. Con tutto il bene. Vediamo quest'altro... Vediamo quest'altro... Quest'altra clip. Ma non è vero, Cannibale, dipendono. Infatti c'è tanta gente a posto, c'è tanta gente che comunque ha la testa sulle spalle. Poi alcuni... Perché devi scivolare? Perché devi scivolare, porco Dio? Allora, posso dire... In realtà è vero, fattuale in teoria, non so se l'ha toccato, Tony. Se l'ha mistato è un clown. Cioè, se l'unico pull up è quella clip nel van col bicchiere, ma allora io, porca troia, vado da John Cena, gli tiro il bicchiere sulla macchina, il giorno dopo tagliere la pull up, ha fatto John Cena. Capito che intendo? Sì, sì, sì. Se invece gli ha tirato una mazzettata sull'occhio... Perché no? Su 250 euro? Quello dopo il Crazzi? Yes, sir, cucciolo! Yes, sir, cucciolo! Con lo scavetto, porco Dio! Con lo scavetto! Con lo scavetto! Bello, porca puttana! Bello, bello, porca puttana! Te la fa sudare, però, madonna mia, ora! Non è che vai preciso, no? Fa sempre quello scavetto lo scavetto! Ma mi piace! Oddio, anche un 150, dammi qualcosa però! Cos'è il 5? Uno, due, tre, quattro, cinque... 120! Sì, 120. Sììììììì! Yes, bro! Yes! 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 QUANTI CAZZO SONO! YESOR! YESOR! CAZZO! CAZZO! E' ESPLOSO STO CAZZO DI MONOPOLI! ME LO SENTIVE IN CULO! PRIMO O PÒ MI DOVEVA ESPLODERE STA MERDA! PRIMO O PÒ DOVEVA ESPLODERE STA MERDA! PORCO DI... PORCO DI... PORCO DI... PORCO DI... PORCO DI... C'era un altro sempre in mezzo o no? Si... Eccolo lì! L'hai chiamato bro! L'hai chiamato! Bello! Un altro sempre in mezzo sotto... 19 Leo! Cazzo andavo 19 però! Devo mettare sul 12! Deve sbagliare! Sbadiglia! 12! 22! 15 troppo! YES! CUCCIOLO! Yes! TANTO BELLE COSI! YES! Cucciolo ma che hai fatto? Ma che hai fatto? Che fai asexodo! E thank you. A podcastuar we drink with idiot two. I guess... CHE E' IL MACO DELLI GAMBLING CHE ODDIO! ODDIO! un 8,50 grazie Cristiano per il prime Sì, ma... Passa la voce, fa uno spray te lo smeghi. Uno spray? Uno spray, uno spray. Perfetto, però in faccia te li devi svegliare. Questi sono 7 per, sceglilo bene. Se lo scegli bene è un casino. Però se lo scegli bene è un casino. Se lo scegli bene è un puttanaglio. Mi dai 1000 euro. Per il pozzo di voce. Mi sembra che 700 sì. Fabri mi sa che ha le visioni. Fabri è sicuro che non sei sotto effetto di qualche altro. E' acido. Te lo chiedo per il tuo bene. Dammelo sto 12, porco dio. Dammelo, dammelo che sono 550 euro. Grazie Luciano per il prime. Ma porco dio. Dio Cornuto oggi il mio coetaneo Santino Gennaio compie 84 anni. Fagli gli auguri. 69. Bello! Bello! Oddio! 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 Oddio, ma non ha senso! Anche io ero al casino di Mendrisio. Vendevo i cammini per giocare al PC. Bro, si mi dava un altro multiplayer che esplode tutto! Bro! Porco dio! Grazie Bengo! Grazie Chen! Grazie Bengo! Au! Come li hai ritirati 5k! Eh bro, ho preso un po' di sbancate una dietro l'altra! Porco dio! Bono! Su due e quaranta, orco dio! Con 40 euro di bet! Scusa Gab! Grazie Chen! Buono dio cane! Anche la baffa lo paga, porco dio! Sta malatissimo, non deve vedere a Ludo! Adesso smetto di fare Ludo e facciamo un content più sano così coinvolgiamolo senza farlo diventare malato! Ci l'ho, ci l'ho, ci l'ho, ci l'ho, bello, ci l'ho, ci l'ho! Ci l'ho, ci l'ho, ci l'ho, ci l'ho! Ci l'ho, ci l'ho, ci l'ho, ci l'ho! 23 vincitori, player ed o club, bello! Uff! Mi spiace Lele, scusami! Ecco dio! Ah beh, che lo fai! Punta da chiusa! Chi è il tuo manager lo contatto riguardo la sponsor? Giorgio, il manager è il pippega, devi scrivere a lui su Instagram Il pippega, digli! Ciao manager del gabrone! Potresti darmi una mano che vorrei comprare un... Insomma, scrivigli così, bro! Coin? Coin! Frena! ... No, uno per venti Dai, fallo di nuovo lo scavetto! Fallo di nuovo, pezzo di merda! Quando serve non lo fai, eh! Bastardo, io non sei altro! Ciao matte! Gab, stasera ci sono io e non sei... Minchia, addirittura il diesimo, come scivola? Ma come cazzo sta a scivolà? Sta a scivolà sta merda! Pericolio! 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 page totale è esplosa con 80 euro bro ho dato una roba assurda un 2000 per porco dio porco dio